all'anima degli mortacci di spangenberg abbiamo trovato questo nella spazzatura e lo stiamo verificando e abbiamo scoperto l'orrore c'è una pista bruciata e quattro componenti andati a fuoco perché qualche furbone ha ponticellato il diodo e poi avrà fatto una porcata ma noi lo aggiusteremo sì noi lo aggiusteremo molto bello nella sua scatola phillips service non male devo dire una goccina d'olio sperando che penetri ebbe alexander scriabin non c'è niente da dire su alexander scriabin ho fatto un esperimento ho usato dell'olio motore questo è olio motore 10 40 credo e quindi l'ho usato per sbloccare tutte le parti e devo dire che ha funzionato molto bene il prossimo passo sarà sistemare questa pista bruciata sostituire quelle resistenze presumo bruciate secondo me questo oggettino può tornare a funzionare molto carino 35 anni fa 15 maggio 1987 per questo carinissimo service della phillips carino adesso stacchiamo questi fili e vediamo un po se c'è scritto il valore di queste resistenze per sostituirle e poi ricostruiamo questa pista bruciata bruciata perché perché qua sicuramente hanno sbagliato a fare misura hanno misurato corrente e hanno bruciato tutto perché qui c'è un fusibile che dovrebbe essere da 160 mili ampere e ci hanno messo un pezzo di filo questo cosa avrà tenuto cinque o sei ampere e quindi ha bruciato tutto se non di più magari lo possiamo anche provare con l'alimentatore vedere quando brucia questo pezzo di filo cosa che non bisogna mai fare mai mettere pezzi di filo al posto dei fusibili mai tanto via questi collegamenti così liberiamo la scheda dopodiché vediamo queste resistenze bruciate puttana di eva facile di saldare quando non c'è lo stagno rohs maledetto a questo punto queste resistenze dovrebbero venire fuori facilmente più o meno facilmente eccola qua forse questo è sano temo che non sia leggibile il valore vediamo se posso pulirlo con l'acetone e con questo cotton fioc enorme enorme sì perfetto l'acetone è magnifico posso pulire bene anche qua fantastico quindi abbiamo 8,3 ohm 990 ohm 1,5k e 2375 ohm sarà dura trovare questi valori speriamo che queste resistenze siano almeno in parte credo di no questa è fritta questa sembra fritta pure lei questa potrebbe essere sana ma in realtà sta perdendo pezzi come vedete forse l'unica sana è questa sì questa è sana questa è l'unica rimasta sana quindi questa sicuramente funziona quindi abbiamo questa diciamo che è a posto questa sembra andata misurata misureremo questa è bruciata e questa è un comodissimo misuratore di componenti cinese andiamo su resistenza allora vediamo un po' cosa ci dice di questa 8,4 ohm 8,3 giusta perfetta dai poi questa dovrebbe essere da 990 e misura 450 0,450 kilom quindi no non ci siamo poi questa che dovrebbe essere da un kilom e mezzo misura 0,308 non c'entra un cazzo e questa qua misura 170 ohm e dovrebbe essere da 2,375 kilom quindi questa è fusa questa è scoppiata questa è scoppiata e questa è giusta solo la prima è giusta questo è costato una ventina di euro su ebay ho preso un sacco di anni fa ed è veramente ottimo ora resistenza da 990 ohm è parente di 1 kilom io qua ho diverse resistenze da 1 kilom potremmo potremmo vedere se ne troviamo una con un valore queste sono all'1% però quindi sicuramente queste sono precise auto ohm dove cazzo è qua infatti questa è da 1 kilom e 16 no vediamo una di queste questa è 1,8 perché è qua dentro questo è un valore diverso non sono resistenze da 1 kilom queste sono state messe a cazzo va bene queste poi le spostiamo via dalle balle marrone nero rosso 1 kilom vediamo quanto misura beh 991 eccola qua bene l'abbiamo trovata e questa è una vediamo le altre 1,5 kilom ora queste sono al carbone non è che siano proprio il massimo ma forse questa 1,466 non mi piace 1,478 porca vaffanculo 1,461 sono sempre un po' basse 1,478 questo è 1,490 1,495 4,94 ancora più meglio la mettiamo qui al posto di questa attenzione eccola 1,499 vediamo se troviamo una cifra precisa 91 no 89 no misuriamo questa per curiosità 1,7 questa è proprio fuori ma perché queste sono resistenza al carbone hanno una verniciatura che non è proprio protettiva e assorbono umidità il valore tende a salire 1,501 1,501 ed eccone un'altra poi c'è anche il rischio che con la temperatura il valore vari però io in questo momento me ne sto fottendo cioè sto restaurando un tester del cazzo 1,502 no va bene ne abbiamo tre vediamo se riusciamo a fare una misura un po' più questo è un tester abbastanza serio considerando la resistenza dei puntali che si attorcigliano sempre la resistenza dei puntali di 0,3 0,2 quindi 1,495 1,496 1,498 eccola perfetta perfetta è lei mi fido più di questa misura quella da 990 io la rimisuro un attimo col tester ci siamo 989 va benissimo e ora dobbiamo cercare quella da 2375 ohm e qua mi sa che ne metto due in parallelo da 4.700 2350 attenzione vaffanculo eh ma qua abbiamo resistenza di precisione al 2% vediamo vaffanculo vaffanculo Che cose incredibili Anche queste sono troppo vecchie Va bene, questo è un troiaio E' un trogiaggio Vediamo questa 4,765 Questa non c'entra un cazzo Vediamo questa qua Ci siamo, ci siamo Però non mi piace la dimensione 4,729 Siamo a posto Queste due Una E due Da 1372 Va più che bene Giusto per scrupolo Vediamo se ne troviamo una di Tolleranza un po' più generosa Noi siamo alla ricerca Della precisione Per un tester del cazzo Dai, 4,735 Tirami fuori un 4,735 Dai 4,726 Non ci siamo Va bene Usiamo queste In parallelo In parallelo Vaffanculo Questa le rimettiamo qua Questa pure E a questo punto anche queste Ce n'è una da Da 5 Qualcosa Ma ho deciso che me ne sbatto E finisce qua dentro pure il vaffanculo Questa Questa non so cos'è Dentro sulle lezioni Vieni Vai a cagare Cioè io sto facendo le misure E questo merda si spegne Ma porco Vi spiego come si fa Voi tenete premuto questo E lo accendete Lui fa 5 bip E adesso non si spegnerà più Rifaccio Tenete premuto il tasto Questo qua Blu E poi accendete 5 bit E lui ha disabilitato L'autospegnimento Solo per Questo utilizzo Perché quando lo spegnete Poi lui si lo dimentica E torna A fare quel cazzo Di autospegnimento Della maledetta Greta Maledetta Lei E del risparmio energetico Pure sulle cazzo Di batterie Che rompe il cazzo Quando uno sta lavorando A questo punto Una pulita Alle piazzole Ma no Sono pulite Vaffanculo Quindi abbiamo detto Che questo Lo rimettiamo A posto Ecco Se non lo perdiamo Facendomi bestemmiare Come un turco Ottomano Con ottomani Questa resistenza Torna dov'era Se ci riesco Senza tirare bestemmie Entra Maledetta È entrata Ma neanche per il cazzo Vaffanculo Maledetto Allora Devo raddrizzare Questo pedino E questo pedino E forse ora Riesco a ficcarla A ficcarla dentro Questa punta La dovrò cambiare Poi questa Che è da 990 ohm Brutalità Bisogna sempre usare Un po' di violenza Poi c'è questa Che è da un chilo A un e mezzo Io le sto mettendo A cazzo Senza badare All'orientamento Sì Me ne fotto Vediamo se riesco A metterla C'è questo Shunt Che rompe i coglioni Vediamo se ho strappato La pista No E ora ci sono queste due Che andrebbero dentro Insieme Mi raccomando Lo stagno Tiratevelo sempre Addosso ai vestiti Specialmente Se avete vestiti Sintetici In pile Così Si appiccica E non si toglie Mai più E voi avete Un bel buco Sulla vostra giacchetta Da mostrare Da mostrare Con fierezza Tagliamo l'eccesso Lo so che ho una tronchesina Del cazzo Ma questa mi è stata regalata Da un caro amico Che si chiama Alex E che saluto E questi erano Dei tool fantastici Che uso tuttora Cinesissimi Ma molto comodi Faccio entrare Prima questo Con odio E poi con rabbia E disgusto Faccio entrare Anche quest'altro E poi Me li tiro Me li tiro Con Con pentimento Questo lo Distanzia un pochetto Dai va bene Saldature Via Subito Molto pene E ora con la violenza Elimineremo questi E ora con la violenza elimineremo questi Uno dei terminali Delle resistenze che ho tagliato Pulire questa vista E portarla A stanza A rame In modo che ci saldo sopra Pulire quest'altra Da schiare Da schiare eventuale carbonio Ma non vedo residui di carbonio Sulla bachelite Perfetto Ora questo qua Se riesco a posizionarlo Senza bestegnare E' un grande successo Perfetto Questo sta Questo lo piego In posizione Li Qui è rimasto Un troiaio Perché è rimasto Questo Troiaio Non ci resta Che provarlo Io spero Che lo strumento Non sia bruciato Se lo strumento E' bruciato Questo coso E' da buttare E io bestemmerò Maledizione Positivo E negativo Fusibile Non ho un 160 mAh Ne metto uno Da 100 mAh Anzi Sapete che vi dico Vaffanculo Ne metto uno Da 250 mAh Che cazzo Me ne fotte a me Quindi qua Gli mettiamo Il suo fusibile E a questo punto Lui dovrebbe essere A posto Negativo qua Positivo lì Questa va così E questa va così Vediamo Con questi che sono I suoi Chiamiamoli così Puntali originali E non funziona un cazzo Ah Certo Perché devo andare A Devo andare A Oh Eccolo qua Che funziona Funziona Il tester funziona Anche A1 Funziona Scala 1 Che va ovviamente Poi Regolata Per azzerare Funziona anche L'azzeramento Quindi L'abbiamo riparato E scala 100 Che va Anche lui Azzerato Bello Bello Molto bello Devo dire Quindi Questa resistenza Da 5,6 Kilo Cosa Mi misura Mi misura Sulla scala Rossa No Sulla scala Ohm 5 5,5 Quasi 5,6 Per essere un analogico Direi che Ci siamo Sono per 100 Questo è un 50 55 Sta lì E direi che sì Ci siamo Dovrei provare La tensione Vediamo Possibilmente Senza provare 10 volt 30 volt Vediamo Scala 30 volt Sarebbe Corrente continua Vediamo Cosa mi misura Sulla 12 volt Vediamo Soprattutto Se scoppia E non misura Un cazzo Ah no Eccolo 12 volt Perfetto Sul 12 Vedete 12 Voi avete L'errore Di parallasse Correggiamolo Portiamo Il tester Così Non si vede Un cazzo Ecco qua 12 volt Subito Col braccio Davanti Eccoli 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 12 0 0 12 12 Non ci resta Che richiuderlo Adesso non ricordo male Questa vita Infatti è spanata Mentre questa E ok No è spanata Anche lei Va bene Me le ha sbatto Ed ecco fatto Il tester E' tornato In funzione Ora Bisogna Solo Di due puntali Nuovi Fantastico 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 Che meraviglia 12 volt Io ottengo I 12 volt Come vedete Che meraviglia Abbiamo L'alternata Vogliamo Azzardarci A misurare 500 volt In alternata No No Ho deciso Di no Per cui Dichiaro Che il tester Va bene Così Mi rompe Il cazzo Andare a cercare La corrente Alternata Qui Sulla ciabatta Per cui E' bello E' un bel tester Mi piace Peccato per questo Che però Non è Stradamente Sembra spaccato Dalla parte interna Questo è stato Schiacciato Ma non è rotto Non sento tacche Quindi Si A questo segno Ma rimane così Lo lascio così Non me ne frega niente E' un simpatico Tester analogico Della Philips 1987 Se non ricordo male C'è un adesivo All'interno Qua c'è lo spazio Per i puntali Ora si trova Un paio di puntali Da mettere qui Al posto Di questi fili volanti Ho un piccolo tester Funzionante Molto carino Qui c'è lo switch Per la corrente alternata E col dolce suono Di queste martellate Io vi saluto Se vi è piaciuto Lasciate pure un like E' bello trovare Queste cose Nella spazzatura Queste erano Era stato buttato via Era nella spazzatura Veramente Era bruciato Scoppiato Però ci è voluto Poco di parare Quattro resistenze Un po' di tempo perso E' bello recuperare E riciclare le cose E' un RAE In meno Ho saldato questi Meglio di niente Ma io per curiosità Voglio misurare Questo fusibile Voglio vedere Quando brucia Quindi adesso Lo collegherò All'alimentatore Adesso noi qui Facciamo passare La corrente Ecco Siamo a 130 mA E gli diamo i 3V Però i 3V Non salgono Perché lui E' praticamente Un corto Ok Vediamo Vediamo se lo stacco Se lo stacco Siamo 1,7 Saliamo a 3V Ok Ecco Diciamo che la batteria Ci dà 3,20 E quindi Gli mettiamo il fusibile E gli diamo 130 170 E non è bruciato Manco per il cazzo Ora saliamo a 500 600 Ecco Siamo quasi a 1A 1A Non fa una piega Saliamo ancora 1A E mezzo 2A Altro che 160mA Siamo quasi a 2,5 E lui è lì Siamo a 3A A 3A Il tester E' scoppiato E' esploso E' diventato Un troiaio E saliamo ancora Vabbè Quasto Sono arrivato Alla fine Al massimo Dell'amperaggio Che mi dà Questo alimentatore E quindi Questo Questo è il fusibile Ponticellato Questo Perché non si devono Mai ponticellare I fusibili